La partnership con Stone Italiano è nata anni e anni fa grazie alla sinergia tra la famiglia fondatrice della mia azienda, quindi la famiglia Pagani, e la famiglia fondatrice dell'azienda Stone Italiana, la famiglia Dalla Valle. Da lì è stato un continuo susseguirsi di progetti portati avanti appunto con la sinergia di entrambe le famiglie. I progetti che ci hanno visto protagonisti insieme a Stone Italiana sono stati diversi, primo fra tutti il Museo Fellini di Rimini, ma anche un grande e bellissimo progetto di Londra, un residence, e da quel momento appunto abbiamo portato avanti continuamente in sinergia diversi progetti fino ad oggi. Affidarsi ad un prodotto come quello di Stone Italiana significa soprattutto affidarsi ad un'azienda solida, un'azienda di persone soprattutto con le quali collaborare è un piacere. Stone Italiana per noi è solidità, solidità in ogni senso, sia in termini di materiale, sia in termini di azienda, di personale.